Domenica 13 marzo tra gli uliveti di Masseria Cetta Grande si è corsa una delle tappe dei campionati provinciali giovanili di corsa campestre. La gara è stata organizzata dal comitato provinciale della FIDAL e dalla SD Marathon Massafra. Ai nostri microfoni il presidente della SD Marathon Massafra Marisa Russo. Un bel cross provinciale, un campionato provinciale che io ringrazio la FIDAL provinciale di Taranto ma anche quella regionale nelle figure di Luciano Ciussi e di Salvatore Lomartire perché oggi erano qui presenti. Un cross dove abbiamo legato i grandi con i piccoli praticamente da 8 anni fino all'ultima categoria, forse era 75-80 anni. Siamo contenti, soddisfatti di questo bel numero per essere un cross provinciale. Abbiamo avuto circa 220 atleti. Ringraziamo la famiglia Montanaro e la famiglia Salamida che ci permette di correre sui loro terreni. Io ringrazio i piccoli in modo particolare perché sono il nostro fiorall'occhiello della Marathon ma anche i grandi e tutti i nostri atleti che ci hanno aiutato. Quindi ci stiamo lavorando da più di un mese per la realizzazione di questa manifestazione. Ringrazio davvero tutto il direttivo, il vecchio direttivo, nella figura anche di Tundra, sempre presente, sempre vicina alla Marathon che ha ceduto lo scettro a me. Che dire, contentissima la manifestazione è molto tranquilla, molto bella, molto suonare, ci siamo divertiti tanto. Questo è il primo evento che io come presidente, però ho perso il conto. Non so da quanti anni si organizza questa gara. Tra l'altro noi ne organizziamo due, una a novembre perché è proprio nel settore promozionale. E poi in questo periodo di marzo mettiamo insieme i piccoli con i grandi proprio per creare questo rapporto di unione tra questa grande famiglia nostra della Marathon che è piccola e grande. Ma chiaramente non abbiamo soltanto gli atleti della Marathon. Oggi abbiamo visto 21 partecipanti di Alberobello fuori provincia, della Freerunners Malfetta, di Barletta, chi altro? Palo del Colle, della Dynamic Palo del Colle. Quindi abbiamo avuto anche atleti di spicco nel campo, soprattutto dei master. Nei piccolini abbiamo anche un grande numero dell'Olimpia Grottaglie, dell'Atletica Grottaglie, ma di tutta la provincia alla fine sono venuti, anche da Manduria. Le distanze un pochettino più lontane a noi. Noi li ringraziamo tutti. Non voglio dimenticare nessuno. Voglio ringraziare i nostri sponsor che ci sono sempre vicino. L'azienda agricola Chaurro che ci ha fornito delle loro arance e ce ne sono tanti altri. Grazie davvero a tutta la macchina che c'è dietro alla Marathon e ci auguriamo sempre di fare meglio. Vi aspettiamo il 6 novembre per la nostra stracittadina massafrese dove lì avremo. Mi auguro più attriti possibili e di far correre anche, di avvicinare anche chi corre da libero, chi non conosce bene il mondo della corsa. Grazie.